ok c'è tutti ragazzi qui, saran 39 che parla, eccoci qua sul nuovo episodio della techit perfetto entriamo nel mondiciuolo ne, cos'è? perchè mi son fatto male? non si sa si va bene ok perchè mi dai cosa dell'inventario ok ancora 4, perfetto ci facciamo un bello stacchino di torce perchè? perchè ora dobbiamo andare a minare e anche tanto facciamoci tutti picconini in caso dei picconcini in pietra un'altra spada un'altra spada ancora e può bastare mi porto dietro del legno non si sa mai e andiamo a minare perfetto siamo pronti e preparati appena si fa giorno poi devo andare a prendere qualche albero vieni da me bravissimo prendiamo tutti i materiali che ci possono essere in questo mondo perchè servono tutti spero che il tutorial vi piacerà quello che verrà pubblicato dopo questo video è un tutorial su come mettere i giochi di windows su mac io l'ho fatto con un gioco in particolare ma funziona con tutti i giochi uguale quindi ueva shit dovrei andarci? probabilmente si ma sarebbe un po' troppo pericoloso si è vero sento i tizioni qui e la cosa non mi piace affatto no stavo per cadere aiuto ah ok ti ho sgamato tu crepi poi vengo vengo a esplorarti io mi ero dimenticato altro carbone qui cosa inaccettabile tanto marmo voglio perchè probabilmente la casa me la farò col marmo cioè quella era l'entrata era a casa poi mi farò tutti i capannoni pieni di macchinari marchi ingegni cose varie quindi e qui c'è una vena di carbone che non finirà mai basta guaggiorno muoviamoci prima che ridi 20 notte oppa torniamo su prendiamo della legna della legna per fare il cerco e poi ritorniamo giù che ne dicete che ne dite che ne dite si dite di si perchè ovviamente dopo io voi non avete diritto d'opinione e state zitti no scherzo oddio niente da secondo me non ho tirato giù tutto ci deve essere ancora qualcosa vediamo se facciamo così va ecco guardateli fate schifo 5 dai la grafica fancy è utile soprattutto a questo ok 5 basta finite ora pecore però ah si adesso mi faccio le cesoie e prendiamo un po' di pecore piantiamo altri alberelli cioè qui poi qui e qui e qui ok ok perfetto ok andiamo subitissimo a farci le cesoie prima prima non farmi questo la canzoncina di fine di sonora mi resta in mente troppo è stupenda ok ok perfetto adesso questo mi dovrebbe cuocere un bel po' quindi facciamo così mi serve altra coble quindi prendiamo tanta coble intanto qua abbiamo una caverna quindi mi serve 8 pezzi di coble ecco vabbè fatto perfetto tac facciamo no no io ce l'avevo di stack e perfetto questo è il primo esemplare di divining road ha un raggio 3x3x3 quindi fa abbastanza chifo chifo oh quindi però per ora abbiamo questo e ce lo teniamo più avanti ci faremo quello avanzato che avrà un raggio fino a 16 e poi un altro ancora più avanzato che avrà un raggio fino a 64 intanto qua mettiamo fare queste io mi prendo altra legna se qualcuno sa come si attiva la tricapitator me lo dica perché io amo quella mod c'è proprio sì tricapitator sì vieni qui sì bravo tricapitator cioè è stupenda io l'adoro ti amo tricapitator torrattano non 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 subito quattro bravissima quante me la date una ma fai schifo pecora muore maiale vieni qua e muori devo procacciarmi un po' di cibo perché se no crepo di fame vieni qui meravissima tu anche vieni qua quanti fps 50 più o meno tu fai schifo fai veramente schifo ti odio solo un pezzo che caffona pecore caffone non esistono più dei pecore di una volta eh già niente ma manco manco pu pu sapete cosa mi esce no tu vieni da me come te mi come tu 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 tac ok facciamo così va e poi andiamo a minare miniere miniere andiamo a minare qualcosa un po' non da questo lato perché qua non mi piace non mi gusta preferisco da quell'ato ok ok vieni qua che ti devo mangiare sono impazzito dammi questo com'è che si fa così ok ok vabbè vi lascio qua cuocere tanto un po' di cibo ce l'ho intanto andiamo a minare ah ah creeper 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 io mi chiedo da dove vengono ok ok mettiamo qua ah mi hai fatto prendere un colpo creeper ah fanbrodo perché così tanti sono in normal mamma mia quanti cavolo di creeper ci sono cioè se minimo c'è uno spawner perché non ce ne possono essere così tanti dai non è possibile cioè non ho neanche blocchi vedrei che faccio una roba di questo genere dai ok ok ta 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 poi metterò altre cose ma intanto per non far venire qua rompere le balle stuporino 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 ma te che caffoni vieni qua stuporino ci si 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 dai tanto carbone carbone è utile per l'amore di dio però ne abbiamo tanto quindi concentriamoci sulle altre cose tipo ferro coal cioè ferro copper coal no perchè sarebbe il carbone sembra giusto dico concentriamoci su altre cose oltre al carbone ferro coal giusto sorry sentito un ragno appunto io amo ste cuffie crepa mu io amo ste cuffie sono utilissime dai si miniam 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 io non mi sono io mi dimentico sempre di far partire un timer ma mi sembra giusto perchè se io facessi le cose professionali non sarai sorrent 99 dei gamer hunter sembra giusto uuuh zaffiro ti amo zaffiro però non ti posso prendere vero no appunto bastasu sì 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 l'ho messo così mi ricordo dov'è perchè ti verrò a prendere zaffiro prima o poi non ti preoccupare non ti lascerò solo non ti lascerò solo ne basta no carbone non ti voglio sei brutto cattivo sentito uno scheletro però è lontano, non è vicino a me. Vediamo quanto ho. Ok. Ho tanto copper. Devo dire che ho tanto, tanto copper. Quindi, eh, siamo a buon punto con quello, però mi serve la tin. Tin, iron. Eh, se me ne servono di cose. Ah, questo è ficconi in ferro. Te? La tin è lì? Però lì ci voglio andare più avanti quando avrò un piccone in ferro perché c'è di tutto. E quindi ci andrò più avanti. No, è vero che non ti ho perso? No, meno male. Facciamo una roba del genere perché sennò qua io ho perduto tutti i materiali. dopo torniamo di sopra, mi faccio un bel piccolo in ferro e poi torniamo qua. Maria, che è? avrò già uno stack di copper. No, 54. Vabbè, finisco questo e ce l'ho allo stack. Vabbè, meglio così, eh, non fraintendete. Però mi servirebbe anche altre cose. Ok. Tipo, quello mi serve. Quello mi serve. Quindi mettiamoci un altro waypoint. Materiali vari. Ok. Perfetto. Aspetta, vediamo quanto. 61, 62, 63, 64. Per ora basta. Intanto, andiamo un attimo qui. Qua, copper, copper. Ok, niente di che. Qui. Enderman. Buio. Enderman, non ti guardo. Non ti ho guardato, Enderman. Bravissimo, Enderman. Sta a tenere lì. Hm? Ho trovato un modo più sicuro per scendere, diciamo. E perché è spuntata una Reven qua? Perché? Nicolite, oro, Nicolite, 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 Tin, Rubini, Esmeraldi, Koal, Oro, Tin, Tin, Copper. Sì, vabbè, ho capito. Qua c'è talmente tanta roba che non riesco neanche a contarla. Quindi ci dovrò andare prima o poi. Però, dato che ora non ho i mezzi, perché comunque sono abbastanza messo male, cioè, con le cose in... Perché mi passi davanti? Ma sì, anche di qua. Eh, è pure una Reven. Ma sì, quanto siamo intelligenti. No, quella è la mia casa. Cos'è? Inter Reven. Meglio così. Bravissimo, Crepa. Crepa infame. Enderman del cavo mi hai fatto prendere un altro colpo. Ci sono tanti Enderman. Meglio per me. Oddio, cioè. In un certo senso sì, in un certo senso, no. Però, vabbè, torniamocene a casa, va? Però, a te voglio. Vieni qua, farro della mia vita. Ok. Questa senso sì, in un certo senso sì, in un certo senso sì, in un certo senso sì. Se qua cadevo, facevo un fail, se qua cadevo, facevo un fail. Nonché di zafferi e tutto di più, quindi risaliamo in velocità. Guarda, 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 scheletro. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Perfetto. Possiamo mettere a cuocere un po' di roba. Prima il farro che è più utile. Perché mi devo fare tutti gli altri. Il farro. E quindi mi serve. Più farro. ero coca è quella pecore ricresciuto il pelo però io non ho le cose non ho le forbici perché l'ho lasciata a casa perché sono un genio perché sono un genio mi chiamo virgola sono un gattino basta no 2 sì perfetto ti amo vieni qua vieni qua crepa mi chiamo virgola oh no un gattino sono la sveglia del telefonino turi 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 cantata nata 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 ok è questa sera la mia m il mio campamento e cuoi battero d'u sto muro e ci farò una mega capanna maga circolare probabilmente con tutte le e e venite per tutte le inizie di tipo ok ossia ci farò i macchinari molto più semplice da dire ma mi conoscete va bene mettiamo via un po' di cose cuociti no pro cacciarci altro cibo qua di notte spona chissà chi mi era del peridachille spona lì di notte quindi crepo ma perché mi danno sempre due cosciotti sti maiali non che mi dispiaccia ma non capisco il perché se sono fortunato io o se c'è qualche mod no non credo ci siano mod che varino i drop dei vari animali ok qua c'è l'acqua io direi che devo andare a settare che ho la casa lì secondo me è molto più importante che andare a caccia di cibo anche se anche andare a caccia di cibo non è da poco no no niente non riuscirò mai a farlo sponare un tizio virgola cosa ok settato la casa tutto 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 carattolo ok cavolo si è messo a piove nevicare però in realtà sarebbe pioggia se andiamo in un bioma non nevoso si trova la pioggia kamikaze si mette si mette vela qua spona dirà di dio dirà funesta di il peli di achille guarda di lì io dovrei andare a esplorarla tutto teoricamente qua perchè se no non è un po' il sopra non è un po' fuori ok così che nessuno ci rompa andiamo andiamo in un po' fuori si può dormire no mi sembra giusto tutto 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 il primo aggegico che però non mi vuole ok fa niente e primo aggettico che però per ora fa schifo poi potenziamo con questo che sarà che sarà meglio migliore diciamo e poi ci faremo come qualcuno ha già intuito il destruction catalyst questo che è complicato da fare abbastanza e vabbè vediamo intanto un po' che cosa c'è intanto guardate la mia skin tgh laica boss col microfono ovviamente perché ormai io ho il detriton quindi ho il microfono laica boss ci faremo questo sicuro proprio come d'oro anche se lo faremo tra un bel po' perché comunque ce ne vuole intanto qua facciamo la scheda vediamo un po' appunto questo dobbiamo farci normal chest to iron chest upgrade buono questo lo dovrò fare si fare boh vabbè questo non me lo fa vedere alchemy tom si con due clean star omega certo va bene ma sta cippa quanto ce ne vorrà poi sicuramente un alchemy bag che è utile le clean star si 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 ci faremo tutti dei tanti bei macchinaretti adesso torniamo alla 1 mi fa male il braccio intanto qua ha cuociuto qualcosa perfetto quindi io direi che da soran 39 è tutto ciao a tutti